Ciao, ti presenti con un ragazzo nuovo? Mi ho presentito con tre buchi, una cistifela in meno e un difensore centrale in più che ci serviva. Voi lo conoscete, sapete qual è il suo passato, il suo curriculum. Non ha bisogno di presentazioni, è il primo giocatore di una rosa che arriverà con la gestione fagiano. Sì, erano già previsti per oggi e domani altri arrivi, stiamo ancora trattando perché le trattative sono lunghe, sia in entrata che in uscita. Però arriveranno, di solito due centrocampisti, un difensore e un attaccante. E' un secondo portiere? No, lo abbiamo già, abbiamo Pulignati come secondo portiere. Quindi secondo portiere non arriva? No. L'esterno diventa destro o sinistro? Il secondo portiere se arrivasse arriva uno anziano per mandare a giocare Pulignati che ha un grande futuro davanti. Purtroppo, poverino, ci dispiace di tenerlo a fare il secondo perché meriterebbe di fare il primo. Visto che Morganella sta giocando a sinistra, può arrivare anche un esterno destro? Gli esterni destri ne abbiamo quattro. Vittiello, Morganella, Rispoli e Struna. Quindi ha ben a due. Manca a sinistra. Di dietro ci sono. E poi non è che ci vuole andare tanto a indovinare, arriverà a sinistra sicuramente. Come lui è un sinistro. Arriverà a qualche italiano anche. Fagiano sta lavorando anche su quello, sta lavorando su diversi nominativi che lui conosce molto bene. Io mi augurerei sempre che arrivassero prima gli italiani. Grazie. 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 Grazie.